Più verde in una zona della riqualificazione della città in occasione della giornata nazionale degli alberi. L'amministrazione comunale di Barletta ha proceduto infatti alla piantumazione di circa 30 platani nell'area dell'ex distilleria vicino ad alloggi per gli anziani. L'iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanze delle scolaresche cittadine per rilanciare soprattutto tra i più giovani il concetto di responsabilità ambientale e migliore vivibilità delle nostre città. Quando si pianta del nuovo verde è sicuramente una giornata di festa anche se oggi c'è qualche goccia di pioggia ma indubbiamente per Barletta è una giornata importante. Sì sì questo è sicuro purtroppo climaticamente non siamo stati fortunati però quello che si vuole sicuramente fare è dare decoro a quest'area dopo che sono stati consegnati gli alloggi per anziani e cercare anche attraverso il verde di dare un po' di sole. Ora aspettiamo anche le scolaresche le quali sicuramente con la loro allegria daranno un po' di vivacità alla giornata. Speriamo anche nel tempo, nel clima che ci sia vicino. È una giornata che fa riflettere anche sulla importanza del verde pubblico nelle nostre città. Lei si occupa di lavori pubblici e manutenzione. Indubbiamente il nostro verde andrebbe curato ancora di più. Sì sì certo va curato di più e soprattutto nel momento in cui si fanno le piantumazioni proprio come in questa giornata vanno scelte le giuste essenze in base al contesto. Perché molto spesso ci capita di vedere in giro per le nostre città dei marciapiedi divelti piuttosto che aree degradate a causa delle radici delle alberi. Questo proprio perché al momento in cui sono stati piantati non si è pensato alle conseguenze che avrebbe portato quel tipo di essenza arborea. In questo caso platani. Sì in questo caso platani abbiamo scelto un'area che è piuttosto ampia proprio perché il platano tende a diventare un albero abbastanza grande e quindi per evitare proprio ciò che ho detto prima.